Sta andando bene, pensavamo di essere più tranquilli, o almeno io, non lo so, sto parlando anche per te, così, per deformazione di coppia, ma io pensavo di essere più tranquilla, invece ieri ero parecchio agitata, però, perché comunque mettere, insomma, in, cioè cantare questa canzone, a differenza dell'anno scorso, è un po' più emotivo, quindi l'emozione ha avuto la meglio su di me, però sono contenta di com'è andata. Se eravamo contenti che è arrivata, insomma, la canzone per quello che doveva arrivare, e poi, sai, le classifiche, alla fine, insomma, ovviamente danno soddisfazione, però poi la gara è ancora lunga. Eh no, non era preventivato, tanto è che l'hanno tagliato, perché non lo sapevano, però, vabbè, sì, ci stava, eravamo lì a due millimetri e abbiamo detto, ma sì, dai, ti do un bacio, via. Ma io direi addio alle insicurezze, perché poi in realtà, forse questa è una cosa che viene un po' anche con l'età, con l'età che avanza, però ti rendi conto di quante tante cose che ti hanno limitato, erano delle cose che non avevano senso, non avevano valore, quindi sì, alle insicurezze. Ci sto ancora lavorando, perché se ne hanno sempre, però quelle vecchie le lascio là. Noi ci siamo presi un po' di tempo per noi stessi, penso che è la prima volta che viviamo questa condizione di coppia che sta insieme da tanti anni e quindi è stata una novità per noi e penso che al di là del fatto che noi comunque lavoriamo assieme, siamo a stretto contatto, sempre. Penso che sia normale, anche se non si sta troppo a stretto contatto. Quando si sta insieme da tanto, forse a un certo punto ci si perde un po' di vista per quello che si è come persone, quindi credo che la libertà in coppia sia la cosa fondamentale, quindi bisogna ricordarsi ogni tanto di prendersi un po' di tempo per se stessi, per capirsi un po'. In realtà i social sono una cosa fantastica, laddove danno voce a qualcuno che altrettanto non ne avrebbe, portano alla luce delle tematiche importanti, sono un po' più ostici quando poi diventano qualcosa in cui scatenare delle violenze, delle frustrazioni che poi sono anche sterili a volte se non sono motivate. Insomma è tosta, è tosta anche vivere in una relazione e essere un po' tempestati, visto anche il lavoro che facciamo, da tanti input, ma al di là, ma non che riguardano noi, le notizie che escono tutti i giorni e quindi diciamo che ci vuole il giusto. Sì, ma in realtà, ma sai che è quasi più del normale, perché abbiamo talmente tante cose da fare e poi non vogliamo troppo farci influenzare da... io non neanche, non ho guardato niente, non so nemmeno se riguarderò la performance, no, sì lo farò, però quando ho un momento in cui magari mi imbarazzo meno. Ma in realtà questa canzone arriva proprio da Francesco che inaspettatamente, quando ci siamo trovati, aveva qualcosa così, aveva qualche idea, sul telefono aveva una nota di questo brano, aveva iniziato a lavorare per fare un qualcosa che poi non è mai dato in porto e gli ho detto ma guarda che è una figata e abbiamo cominciato a lavorarci, metti una chitarrina, metti insomma, cambia il giro di batteria, è venuta una cosa che insomma che ci piace, ci diverte e gli abbiamo dato una sferzata di sound che secondo me ci rispecchia anche.